Il tuo talento, perché il tuo sta spopolando in tutta Italia. Sì, sì, perché ci piacciono molto i giovani, ho un sacco di fanci giovani. E si vedono qui questa sera, si fanno sentire. Molto giovani, anche bambini di 10 anni. Ma ti chiedono l'autografo, cosa fanno adesso? Ti chiedono l'autografo, le foto e mi baciano. Le tue origini, dove arrivi? Io vengo di Catania. E' siciliana, Angela. Sono siciliana come voi altri. E allora, Angela è in giro per l'Italia, so che sarà sabato prossimo a Ravenna, quindi in discoteca. Sì, sì. Si scatenano anche i giovani con te? Sì, mi piace molto ballare io e i giovani. Ci raccomando di non bere alcol e di non fare uso di stupefacenti. Perché se loro... I puntini sono lì, giusto? Se loro toccano queste due cose, campano 100 anni come me. Perché io nella mia vita non ho bevuto mai un po' di alcol. Alcol. Ok. Mario, una vodka alla pesca per Angela. No, non ne bevo, grazie. E allora, Angela, raccontaci qualcosa di personale. Tu, viva Catania. Io, viva Catania. No, non ne bevo, grazie.